Eccoci arrivati, buongiorno a tutti, siamo nel canale di Yardforex, io sono Arduino Schenato, sono qui nel mio ufficio, ufficio di Yardforex. Price Action Trading, questo è quello che faccio da trader indipendente, quello che cerco di promuovere, trasmettere da tanti anni qui sul canale. Molti di voi mi conoscono, oggi l'argomento è un argomento a mio avviso molto interessante, è una pillolina per andare a elencare quali sono i passi per diventare un Price Action Trader. Price Action Trader, ovvero un trader che lavora esclusivamente con le dinamiche di prezzo. Poi lasciate stare che in questi ultimi anni tantissimi si sono messi a promuovere il trading con la Price Action, io quindi dico sempre che la mia Price Action è una Price Action un po' evoluta perché ho inserito all'interno del mio metodo, almeno a livello tecnico, alcuni concetti relativi alla struttura di prezzo che sono proprio nostri di Yardforex e quindi chiunque venga all'interno delle nostre community, Platinum, Stock Insider, insomma che entra dentro i nostri corsi, riesce a capire studiandole. Allora intanto questi cinque passi per diventare un Price Action Trader, che diciamo li elenco, l'elenco non è fatto per forza dal primo all'ultimo, però se vogliamo diciamo anche sì. Però voi potete anche comunque andarli a studiare, a vedere e magari a sviluppare anche diciamo in momenti diversi. Allora intanto la prima cosa, il primo concetto che io ritengo interessante e soprattutto importante, cioè fondamentale più che altro per andare a sviluppare l'attività del Price Action Trader e questo però vale per tutte le categorie in realtà di lavoro insomma e quindi di trading, è la passione per i mercati finanziari. Senza passione per il mercato difficilmente l'attività di trading sarà un'attività che farete con serenità, divertimento, che vi svegliate il mattino e non siete diciamo annoiati o stufi di andare a lavorare, ma diventa un'attività interessante perché ricordiamo che l'attività di trading è un'attività imprenditoriale. Quindi essendo un'attività imprenditoriale è un'attività dove siete voi il fulcro di tutto, il 100% di tutto e poi in questo caso nell'ambito del Price Action Trader o del trader in più in generale siete voi a lavorare, a fare i commercianti attraverso dei mercati che in questo caso sono mercati elettronici, mercati online, quindi mercato delle valute, il mercato delle azioni, degli indici, materie prime, quello che volete. In altri casi per altri lavori magari invece siete, magari fate da broker per delle merci, fate quindi da intermediario oppure avete, non so, un negozio di abbigliamento, qualsiasi cosa. Comunque fare l'imprenditore serve sicuramente una certa passione per quello che si fa. In realtà conosco anche molti imprenditori che magari fanno una cosa che non gli piace nemmeno fare o non gli piace più fare, ecco, è necessario a mio avviso fare un'attività che ci piace. Quindi non avviciniamoci al mondo del trading e della Price Action, ma del trading in generale senza avere la passione dei mercati, ma solo perché magari abbiamo letto o ce l'ha detto il nostro amico perché si possono fare dei soldi, si può avere tutto il tempo che si vuole per fare altro, fare soldi attraverso dei sistemi automatici e noi sulla maca sorseggiando il drink, eccetera, eccetera. Scordatevi questo, bisogna avere, poi magari lo fate anche in alcuni periodi dell'anno, non male, bisogna avere molta passione e quindi deve piacerci quello che facciamo. Quindi prima di tutto gli andamenti dei mercati, insomma, seguirli. Ci deve piacere, ci deve creare, insomma, un piacere nel farlo, non ci deve, non deve diventare pesante. Ecco, questa qui sicuramente è la prima, diciamo, la prima cosa che io ritengo assolutamente fondamentale e opportuna. La seconda cosa, qui però vado proprio nella nicchia del price action trader, è il credere che la verità di quello che noi vediamo sta nel prezzo. Perché ovviamente nei mercati, ma probabilmente non solo, ma io qui parlo di mercati, nei mercati ognuno ha un suo punto di vista. Quindi diciamo che ognuno ha la sua verità. C'è chi magari osserva l'andamento dei dati macroeconomici e lavora con quello. C'è chi osserva l'andamento magari di alcuni indicatori, che possono essere indicatori macro o indicatori più tecnici e magari lavora con esso. C'è chi lavora col prezzo, come io, come me. C'è chi lavora con magari determinati pattern tecnici più magari l'analisi dei dati. Lavora con quello. Quindi per ognuno, diciamo, può avere il suo punto di vista. La cosa però importante per il price action trader è quello di credere fermamente in quello che poi gli permette di fare trading. Ma non vuol dire crederci perché abbiamo fatto un corso da Arduino e quindi successivamente Arduino mi ha detto così. No, bisogna crederci. Quindi nel momento in cui, per esempio, avete acquistato Price Action Naked, il corso sul sito, oppure siete dei platinati ormai da tempo, magari lifetime, comunque ormai trader che fanno questo, ovviamente sapete che, e probabilmente se l'avete ormai in sito, di andare ad avere come primaria fonte, diciamo, di informazione e quindi dare tutto il peso di quello che è il movimento di prezzo rispetto poi all'attività che si fa. Quindi attività che, ovviamente, noi ci auguriamo che sia remunerativa, cioè cerchiamo di fare le azioni per cui diventi profittevole, remunerativa. E quindi dobbiamo crederci. È molto importante. Cioè, se già, diciamo, alla fonte, all'inizio, sì, Arduino è bravo, voglio fare magari, facciamo il corso, oppure veniamo sul platino, però sono già inquinato da altre cose o comunque credo più ad altro, non ha molto senso andare poi. Perché il trading è anche molto il nostro punto di vista, il credere in quello che si sta facendo. Quindi se non si fa completo affidamento alle dinamiche del prezzo, quindi credendoci, andando magari short sul petrolio, long su S&P, adesso dico ovviamente short, euro-dollaro, eccetera, eccetera, perché il mercato, il prezzo ce lo dice? Perché per noi che facciamo price action, diciamo che la fonte primaria di informazione, il telegiornale più attuale, più importante, più vero, che non ci dice delle fake news, è il prezzo. Poi, ovviamente, c'è tutta una metodologia, adesso ci arrivo, che prevede anche gli stop loss. Cioè, perché il prezzo ci dice la verità, è ovvio che noi poi dobbiamo interpretarla. Ed ecco che qui, poi, sta tutto lo sviluppo di un'esperienza, di uno studio, che non si finisce mai in realtà di, non si conclude mai, non si finisce mai di imparare, si continua sempre ad evolversi. Anche questo sta poi nel primo principio, cioè il primo passo, c'è il fatto che anche la passione viene sempre alimentata, diciamo, da questa continua evoluzione, questa continua crescita. È ovvio che se io ho anche dei risultati, perché se io continuo anno dopo anno a non vedere i risultati nel trading, è ovvio che poi sono io il primo a dire forse non è l'attività, no? Ma se inizio a vedere i risultati, inizio a vedere che facendo certe azioni, ponendomi con un approccio di un certo tipo, io ho dei risultati, questi poi con l'esperienza, il continuo studio, e qui ci arrivo, si può ancora di più evolvere e addirittura migliorare anche questa cosa. Terza cosa. Terzo passo, diciamo, per arrivare a fare il Price Action Trader. Terzo passo è avere una chiara, come dire, visione del futuro, da qui magari a, quando si inizia ovviamente, per diventare da qui a tre anni, dico una tempistica medio, media, buona, e quindi avere la pazienza per capire che un po' come si dice il detto a Roma non è stata costruita in una notte, avere la pazienza che step by step un po' alla volta costruirò il mio vestito, il mio piano, attraverso magari appunto le dinamiche di Price Action, attraverso lo studio del prezzo. Non è scontato questo, cioè magari abbiamo la prima, la prima, abbiamo la passione, no? E quindi abbiamo la prima cosa che ci serve. Poi siamo anche, diciamo, abbastanza, anzi, siamo fedeli alla Price Action, nel senso che ci crediamo, no? Abbiamo visto, guardando degli esempi pratici, noi spesso li facciamo, esempi, i seminari, corsi, eccetera, eccetera, esempi proprio, casi studio, di situazioni che confermano la bontà, no? Della verità che sta sul prezzo, quindi movimenti dati da dei pattern ricorrenti, penso all'FTV, no? La mia strategia proprietaria che ormai ha dieci anni che la utilizzo sul mercato, aveva un backtest già di 20 prima e insomma c'è tutta una serie di cose, ecco, l'FTV che è un pattern ci credo, no? E quindi ci sono queste due cose ma manca magari l'avere pazienza e quindi un obiettivo, soprattutto all'inizio, un po' più di ampio, quindi magari faccio un corso e poi subito dopo penso che applicando i principi che sono corretti, che magari mi ha insegnato anche Arduino, Airforex, posso subito svoltare ed essere un Presection Trader che fa un sacco di soldi, ecco, questo diciamo che non è la sua, dobbiamo avere la pazienza perché come ogni lavoro necessita di competenze che si alimentano di continuo studio, di continua preparazione, di continuo mettersi anche sul mercato, operare, fare delle cose, a volte anche fare degli errori e quindi studiare degli errori, fare dei profitti, insomma, è un cammino, quindi ho quei due o tre anni all'inizio di darsi come obiettivo per poi magari farlo diventare anche un lavoro, no, un'attività che è un'attività che può sostentarci anche come prima attività o come seconda, insomma, un'attività profittevole, un attivo proprio, come dice la parola stessa, ci vuole un po' di pazienza, quindi quando si è all'inizio, il fatto di andare a, come dire, pensare che subito dopo ci siano risultati, ecco, insomma, un po' di attenzione perché anche se non vedrete subitissimo i risultati, cercate di, cioè il price action trader si concentra sul processo inizialmente che sia quello corretto. Se sentite un po' di casino è perché qua stanno facendo dei lavori. Detto questo, una volta che ci sono questi tre poi ovviamente si capisce che si vuole fare il trading con la price action e si inizia a studiare e poi una volta che si inizia a studiare a capire certe dinamiche e quindi a crearsi delle competenze teoriche si può andare un po' sul campo e quindi facendo passi pian piano e quindi il, diciamo, quarto passo è quello di iniziare a lavorare. Prima di iniziare a lavorare quindi di mettersi proprio a tradare, diciamo, quindi a trovarci sul mercato e capire che tipo di, no, di vestito sempre di più mi devo fare, bisogna crearselo un piano. Infatti noi sui Airforex diamo spesso, no, queste, diamo spesso questo input di crearsi il piano, di scriversi le regole, eccetera. Il piano che cos'è? Eh, vi faccio un esempio dove io vado a, c'è qualche video anche qui sul canale dove proprio ho parlato di questo addirittura ci sono degli webinar che parlano del piano di trading, se volete vederli. Sicuramente ci sono da qualche parte, qui nel canale ci sono un mare di video, siamo 12 anni che siamo qui su YouTube quindi trovate un sacco di roba. Comunque, ehm, crearsi un piano quindi scriversi le cose che, secondo voi, devono essere inserite e con disciplina dovrete seguire nel tempo. Quindi, per esempio, vi viene da dire, ehm, il price action trader per esempio inserisce all'interno della propria metodologia il proprio piano d'azione a livello ovviamente tecnico va a inserire i time frame operativi. Quindi, io farò trading esclusivamente, per esempio, attraverso lo studio della struttura weekly con dei setup su daily e in qualche caso se il daily è pronto anche su quattro ore, per esempio, no? Oppure weekly e daily, stop. Poi, per esempio, che setup vado ad utilizzare? Ecco, nel mio piano di trading utilizzerò solo l'FTV. Boom, per esempio. E in più, all'interno del piano dovrò avere anche più o meno il money management che andrò a utilizzare, no? E quindi anche il risk management, tutto quello che riguarda la gestione del rischio, la gestione del profitto, un po' la gestione della posizione, sapendo che poi il price action trader avanzato, colui che ormai ha raggiunto un certo tipo di livello nel tradare, di sensibilità, ha un'elasticità in questo piano che è super, no? Seppur rimane sempre molto metodico e molto ancorato, diciamo, ai principi fondamentali del suo piano. È molto chiaro. Poi chi magari all'inizio questa cosa la capisce forse nel tempo, ma è molto importante. Quindi, all'interno di questo piano inseriremo queste sette, otto cose importanti che noi nella nostra attività di trading utilizzeremo. Diciamo che la nostra attività imprenditoriale avrà un piano, è un po' come quando nella nostra attività imprenditoriale di altro noi ci facciamo un piano e quel piano in linea di massima lo andremo a diciamo a rispettare. Poi, io spesso di anno in anno magari ci posso fare delle lievi modifiche, però insomma è un po' quella cosa lì. Le modifiche ovviamente vengono fatte sempre nell'ottica dell'evoluzione, del miglioramento. Quindi mi guardo indietro, vedo che ci possono essere delle cose da sistemare, magari abbiamo visto che il mercato non so, quest'anno è stato più direzionale piuttosto che più in range, allora magari si può andare a valutare, magari si può inserire un mercato in più, si può togliere qualcosa. Sono sempre quelle diciamo caratteristiche, quelle dinamiche che si vanno un po' a modificare in base un po' al momento. Però ecco, il piano è molto importante, quindi dopo lo studio e quindi acquisire le competenze teoriche e quindi iniziare a smanettare un po', è ovvio che per poi fare il passo di crearsi la propria attività imprenditoriale di trading, che ripeto, all'inizio non sarà subito la prima attività, perché prima bisogna capire quanto riusciamo, ecco, anche quanti soldi vado a capitalizzare nella mia azienda di trading, fa tutto parte del piano di trading, gli obiettivi fanno parte del piano di trading, ovviamente ognuno poi privatamente ha il suo, quindi gli obiettivi che anche qui abbiamo fatto proprio un webinar il mese scorso, su questo lo potete trovare qui sul canale qualche video fa, gli obiettivi di un'attività imprenditoriale come il trading, che tipo di obiettivi in base alla mia esperienza, in base al capitale, in base al rischio che io voglio prendere, quindi diciamo fa tutto parte di un piano che ci si va a creare scritto e poi si cerca di rispettarlo, questo già crea una modalità di trading che è assolutamente di consapevolezza, cioè si va a fare le cose con conoscenza di quello che si fa, senza nessuna insicurezza, senza nessuna cosa casuale, cioè rispettando alcuni parametri appunto del piano di trading, pur con l'elasticità che probabilmente quella arriva un po' più nel tempo, ok? Perché con l'avanzare degli anni che uno fa trading, io, ormai sono tanti anni che faccio trading, trading è un'elasticità nella, come dicevo, nella strategia, nella metodicità del piano, questo avviene in tutti i lavori se ci pensate, soprattutto a livello professionistico, chi conosce bene una professione, più anni ha di professione alle spalle, più diventa capace, sensibile a certe cose, perché certe cose tu le hai riviste, le hai risentite, magari in quel caso c'è un po' di sfumatura, un po' diversa, però l'avevi già vista magari due anni prima, eccetera, quindi io stesso mi trovo a volte a fare delle scelte diciamo operative quando il mercato magari mi va contro, magari chiudo prima, oppure nella scelta di un'entrata a mercato, a volte magari scelgo un'entrata a mercato diretta, a volte scelgo un'entrata di buy or sell limit o buy sell stop, quindi utilizzo ordini pendenti a mercato diversi, perché magari la struttura mi sta indicando qualcosa, la correlazione, sono tutte queste sfumature che fanno parte diciamo di questo quarto punto che è proprio l'esperienza, lo studio e il crearsi un piano sempre di più profittevole, perché ricordiamoci poi che il trading, l'obiettivo, è un'attività imprenditoriale, quindi passione, tutto quello che volete, però alla fine l'idea è quella di cercare di creare degli utili, quindi delle plus valenze. E poi l'ultimo, possiamo dire, che però quello ovviamente è quando già ormai ci si è diventati price action trader, è il fatto di avere l'umiltà, il trader in generale deve avere molta umiltà, è quello di continuare a studiare con molta umiltà i movimenti di prezzo e cercare sempre di migliorare quello che sta facendo attraverso lo studio dei propri bilanci, diciamo, cioè il fatto di guardare il proprio diario, costi e ricavi, vedere un po' la situazione, lo dico sempre, il miglior libro di trading è il vostro libro di trading, è quello che avete fatto fino ad oggi. Quindi, diciamo, avere sempre con l'umiltà, anche quando vi troverete a guadagnare bene con il trading, a essere costanti, a addirittura guadagnare quello che magari una persona comune che però non va a rischiare, attenzione, perché un imprenditore rischia sempre del suo, quindi noi pensiamo sempre magari con il trading o con l'attività imprenditoriale guadagni cinque volte quello che guadagna magari un dipendente di un'azienda, però è anche vero che il dipendente dell'azienda magari non va a rischiare del suo, quindi attenzione, sono sempre delle cose, perché c'è sempre una dose di rischio nell'attività imprenditoriale e nell'attività di trading, quindi è anche, diciamo, probabilmente giusto che un trader o un imprenditore in generale possa anche guadagnare di più, perché mette del suo, ci può essere anche che quei soldi li possa perdere, un anno possa avere un anno più difficile, questo in qualsiasi attività imprenditoriale nel trading non è un'eccezione, potrebbe succedere, quindi diciamo che ecco, il continuare a evolversi studiando i movimenti di prezzo, io lo scrivo anche spesso nelle mie, nelle mie, come dire, nei miei curriculum, nelle biografie, quando mi chiedono, quando faccio qualche evento, mandami due righe, eccetera, dico sempre che sono un cultore dei movimenti di prezzo, cioè io vado sempre a osservare, quando ho un'oretta in ufficio qui e magari ce l'ho abbastanza libera perché non mi ero segnato altro, allora o leggo un libro che magari mi può migliorare, ci sono tutti i libri che appunto della sfera per esempio più della finanza comportamentale, del miglioramento di se stessi, eccetera, con Antonio Izzi, mio collega, ne parliamo spesso il mercoledì nelle live che facciamo qui su YouTube, ecco, magari leggere alcune cose di questo tipo, comunque leggere, leggere sicuramente è di aiuto, oppure proprio andare a guardare, io a volte proprio mi incanto davanti i grafici perché vado a vedere, vado a capire, ho fatto questa cosa, vediamo se ci sono delle cose simili a questa, vado proprio all'interno dei movimenti di prezzo e vado a cercare di capire se ci sono delle connessioni, no, tra alcuni movimenti di prezzi ripetitivi, a volte non trovo niente, a volte invece trovo delle cose interessanti, quindi magari su certe dinamiche capisco che magari un'entrata potrebbe essere meglio farla così piuttosto che quella, a volte mi provo anch'io, eh, in alcune entrate, in alcune gestioni delle posizioni, quindi è tutto sempre in movimento, è sempre un'evoluzione, sempre in movimento, questo però è necessario ed è quindi necessario essere così se si mantiene sempre un profilo umile, no, un profilo di assoluta umiltà nei confronti del mercato, perché il mercato poi ha sempre ragione, si deve avere ovviamente zero aspettative quando si fa un trade, qua però si va già più sul, sull'approfondito e sull'avanzato, però ecco, il fatto di mantenere completa, come dire, proprio tranquillità nei confronti del mercato, tranquilla, molta umiltà e ragionare sempre pensando che quest'anno oppure oggi si è fatto qualcosa, qualsiasi cosa, si è fatto uno stop, si è fatto un target, eccetera, domani non c'è più ieri, quindi cercare sempre di fare bene, di non, di essere umili, quindi di ragionare sempre sul mercato, non guardando quello che si è fatto ieri, magari si arriva da due posizioni in perdita consecutiva nell'ultima settimana, non guardare indietro o in profitto, mai, ma cercare sempre questo è il trade, è la qualità con profonda umiltà, così ci si evolve, quindi sempre avere, ecco, l'ultimo punto era sempre avere questa completa umiltà e questo continuo studio e ricerca di evoluzione in questa, in questa, in questa attività che è il trade. Io direi che abbiamo visto veramente tutto, oggi abbiamo parlato di, diciamo, dei cinti, cinque pilastri, cinque passi, chiamate come volete per diventare un price action trader, ve li ho sviscerati bene in questa chiacchierata, poi scrivetemi un po' quello che pensate rispetto a quello che ho detto qui nei commenti, vediamo, insomma, se c'è qualcosa che magari volete tirar fuori anche in un prossimo video, scrivete che magari mi vengono anche delle nuove tematiche magari da sviluppare qui in queste pillole di YouTube, oggi è stata una pillola un po' più lunga però è venuta così, io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.